Sono molto felice di essere a Linea Pelle in questo spazio dedicato all'innovazione e la sostenibilità. Vi presenterò una tecnologia che abbiamo sviluppato e vi racconterò chi siamo. ACBC sta per Anything Can Be Changed, il nostro nome non è soltanto il nostro brand, è il nostro commitment verso l'industria, crediamo veramente di poter cambiare le cose, siamo la prima B Corp di calzature in Italia, B Corp è una certificazione per gli standard di sostenibilità e sociale. La nostra missione non è quella di essere un brand sostenibile ma di essere il leader nell'applicazione della sostenibilità, quindi nell'applicazione delle tecnologie e dei processi sostenibili in funzione del raggiungimento di obiettivi ambientali, ambientali scientifici di riduzione di CO2, di riduzione di impatto sulla biodiversità, di riduzione di human toxicity. Quindi ACBC fondamentalmente ha il cuore di ACBC, si fonda sulla ricerca e sviluppo di tecnologie sostenibili, noi condividiamo queste tecnologie con il settore per permettere al settore di raggiungere i suoi obiettivi. Io e Joe l'abbiamo fondata nel 2017 con un mindset del 2030 e quindi fondamentalmente pensando di fare leva sull'innovazione in campo di tecnologia e dei materiali sostenibili per trasformare l'industria. Voi magari non sapete che nella pie chart delle emissioni di un prodotto i raw materials producono tra il 70 e l'80% dell'impatto di un prodotto, poi abbiamo il 10% di processi industriali, 10-15% di trasporto e il resto è packaging e fine vita. Quindi i raw materials sono la chiave realmente per abbattere l'impatto ambientale di un prodotto. Io sono professore di sostenibilità al Politecnico di Milano e Joe, quindi sono la parte tecnica della start-up, mi piace chiamarla start-up anche se oggi sono 4 anni dalla nascita e abbiamo una dimensione non da start-up, ma mi piace chiamarla start-up perché manteniamo questo spirito sempre di credere nel cambiamento e di non accontentarci dello status quo. Abbiamo iniziato con una prima innovazione che era la zip shoe, quindi ecodesign applicato alla calzatura, modularità, design for disassembly applicato alla calzatura, era un test di mercato, io al tempo facevo il designer di prodotto, Joe era un general manager di True Start in Asia. Mettiamo questo video su Kickstarter, fa 50 milioni di views su Facebook e raccogliamo 700 mila dollari di preordini. Questo ha fatto partire ACBC, l'abbiamo fondata a Milano, siamo tornati in Italia per crearla perché crediamo che l'Italia sia il posto in Europa dove a livello manifatturiero e a livello creativo la moda abbia il suo cuore. A novembre del 2019 fondamentalmente cosa facciamo? Uniamo per la prima volta nella storia della calzatura eco-design, modularità con eco-materials. WWD afferma che ACBC is set to release the world's most sustainable shoe. Noi a quel punto cosa succede? Avevamo 15 negozi monomarca della zip shoe aperti. Arriva il Covid e fondamentalmente chiudiamo tutti i negozi e capiamo che il modo per sopravvivere è realmente poi il valore che potevamo portare al mercato. Il mercato poteva avere bisogno di noi perché un altro brand ancora, altri prodotti ancora, veramente abbiamo capito che ACBC poteva avere un senso, un valore puntando a un nuovo modello di business, a un modello collaborativo. Da quel momento cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su certificazione dei materiali e supply chain. Abbiamo chiuso più di 26 contratti di collaborazione in cui la collaborazione significa supporto al partner per permettergli di raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. E da due siamo diventati 15. Il cuore pulsante dell'azienda sono le scienze dei materiali. I nostri materiali sono tutti animal free, principalmente per un motivo di sostenibilità, perché i prodotti di derivazione animale hanno una carbon footprint più alta. Detto questo non voglio assolutamente puntare il dito contro le concerie, contro le pelli, perché so benissimo che il lusso, in Italia abbiamo tanti brand del lusso, è difficile per il lusso abbandonare un touch and feel, uno standard a cui il cliente è abituato. E quindi è molto difficile per il lusso abbandonare la pelle. Credo che per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità a livello globale l'industrial animal farming debba essere ridotto. Il 14% della CO2 globale, il numero della FAO viene dall'industrial animal farming. Quindi dobbiamo ridurre necessariamente questo numero. Quindi noi stiamo abituando l'industria a pensare a nuovi materiali, a nuove tecnologie. Nel frattempo, mentre l'industrial animal farming gradualmente diminuirà, ovviamente supportiamo anche le aziende del lusso per utilizzare pelli che abbiano dei trattamenti più sostenibili possibili. Questo era per spiegare un po' il nostro e perché siamo animal free. Perché è ovviamente un argomento molto complesso. Che materiali utilizziamo? Biotecnologia, green chemistry, quindi biosintetizzati, derivati da piante, riciclati. A volte mixiamo il riciclato con il biobased per aggiungere livelli più alti, per massimizzare i livelli di input responsabili. E fondamentalmente sono divisi in queste tre aree. Quindi sì, abbiamo i materiali available, già testati dal fashion, mappati a livello globale. Quindi tutte le tecnologie disponibili su diverse supply chain, perché noi produciamo in Asia e in Europa. Per noi non è importante il made in, ma il made how. Quindi le fabbriche devono essere prima di tutto certificate per gli standard sociali. Dopodiché cerchiamo di accompagnare l'azienda verso certificazioni anche ambientali, quindi carbon footprint, monitoraggio dell'energia, installazioni di energy management system, efficienza energetica e riduzione della CO2. E ovviamente anche riduzione del consumo d'acqua e di prodotti chimici. Quindi available, disponibili su supply chain Asia e Europa. Advanced, talvolta prendiamo tecnologie che vengono da altri settori, come automotive e construction. New Frontiers, creiamo materiali. Quindi in collaborazione con i dipartimenti di ricerca e sviluppo degli innovatori e dei produttori di materiali mondiali, che noi riteniamo essere allineati alla nostra vision, creiamo nuovi materiali, piuttosto che creiamo nuove applicazioni per materiali esistenti e ovviamente abbiamo obiettivi di look and feel e di performance. Oggi vi presento Beyond Plastic. Beyond Plastic per ACBC è un trademark tecnologico che identifica le alternative a livello di materiale e le alternative alla plastica tradizionale. Puntiamo a dei contenuti di input responsabili vicino al 100% e stiamo parlando adesso all'analisi, ovviamente la ricerca è andata in una direzione nuova. Quindi abbiamo cercato di portare innovazione in un settore dove a livello di materiali responsabili si utilizzava al massimo l'ABS riciclato. La prima tecnologia fondamentalmente che vi presento è la Beyond Plastic Flora. Flora viene dai microorganismi, quindi i microorganismi fondamentalmente mangiano zuccheri, mangiano olio nel processo di digestione, accumulano all'interno dei granuli, questi granuli possono essere iniettati in uno stampo proprio come la plastica tradizionale. Questa plastica è un po' l'idrossi butirato e ha superato tutti i test meccanico fisici. Queste tecnologie che vi presento oggi sono fresche di ricerca e sviluppo, quindi andranno in commercio tra sei mesi, oggi hanno appena passato i test fisici ed estetici. Per estetici intendo di laccatura. Beyond Plastic Ricinus, 100% biosintetizzata dal seme di ricino. Il seme di ricino fondamentalmente produce un olio, l'aminoacido può essere polimerizzato per creare la poliammide. Con fondamentalmente questo grado della Beyond Plastic abbiamo un 100% biobased, non è biodegradabile come quello precedente, ma ha performance più alte. Talvolta per raggiungere performance, obiettivi di durabilità, di flessibilità più alte bisogna lasciare una caratteristica, come in questo caso quella della biodegradabilità. È un materiale 100% riciclabile, ogni materiale può sopportare diversi cicli di riciclo. In particolare la poliammide e il nylon hanno una capacità di resistere al riciclo molto elevata. In ultimo la Beyond Plastic Ricinus, questa non ha passato i test fisici, ha passato i test meccanici. Quindi la Beyond Plastic Ricinus Oyster fondamentalmente cosa fa? Riduce all'80% l'utilizzo del materiale biosintetizzato vergine dal seme di ricino, quindi il ricinus, e integra per un 20% un materiale di scarto, senza comprometterne però le funzionalità fisiche. Questo scarto viene dai gusci dell'ostrica, è un carbonato di calcio che deriva dai gusci di ostrica, che vengono accumulati in pile in Bretagna e non vengono utilizzati, è un prodotto di scarto. Ovviamente lo scarto, questa è l'immagine dei gusci d'ostrica, lo scarto diventa scarto solo se noi lo sprechiamo. Quindi vi invito ovviamente ognuno nella sua area a riflettere sulla valorizzazione di scarti. Se ne è aggiunto qualcuno negli ultimi mesi, questi sono gli award, siamo stati i migliori startup in Italia nel 2020 per Beeros, abbiamo vinto vari award, insomma la Green Carpet, WPP Innovatori dell'Anno, ma non è questo in realtà che ci dà soddisfazione, quello che veramente le nostre vittorie sono quando riusciamo a sostituire un materiale con un materiale migliore, che ha un minore impatto di CO2, che ha un minore consumo d'acqua, che impatta di meno a livello chimico. Quando riusciamo a sostituire questo materiale e dimostriamo che si può fare, ovviamente poi la sostituzione può essere applicata in orizzontale su tutti i prodotti di un brand e quindi a livello di contabilità, di profit and loss ambientale, il brand può fare un bel write off e riduzione. Ovviamente è molto complesso andare in sostituzione, in trasformazione di materie prime e prodotti e il CBC nel supporto alle aziende lo fa con un processo completamente trasparente per quanto riguarda la riduzione degli impatti ambientali e l'impatto ovviamente anche sulle voci costo. A noi piace dire che bisogna comunque mantenere sempre un balance tra etica, estetica e prezzo. I prodotti comunque devono essere venduti. Grazie. Assolutamente, grazie. Io non so se abbiamo delle domande. I don't know if you have some questions because someone is speaking in English as well. Of course. Io direi grazie perché sei stato chiarissimo. Però io una domanda ce l'ho. Sì. Avete messo a punto un modo, un metodo proprio per educare i designer a tutti questi processi e far capire a loro che quello che hai detto tu prima, prezzo, tecnologia, estetica, poi fanno parte di un unico flusso. Allora noi diciamo ACBC quando affianca un partner ovviamente ci piace creare awareness sul contesto globale della sostenibilità, sulle implicazioni nel settore moda e ovviamente non ci piace diciamo ok va bene lavorare in coda, quindi risolvere i problemi di un prodotto già fatto ma realmente per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati così ambiziosi bisognerà allineare e far collaborare diciamo nella fase creativa e nella fase di design i team sustainability con i team design. Adesso è quello che facciamo quindi noi ci allineiamo fondamentalmente ai team design perché questo è un articolo di McKinsey che è uscito un paio di settimane fa fondamentalmente l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto viene definito in fase di design e quindi ovviamente quella fase è fondamentale per andare a limitare i danni dopo perché in fase di design non si fa solo la progettazione dei materiali ma si progetta anche la struttura del prodotto quindi si potrebbe progettare comunque il prodotto in funzione del fatto di poter essere riparato, di poter essere disassemblato, di poter essere riciclato, in fase di design si può progettare anche il servizio di take back, si può progettare ovviamente tutta l'operation, tutta l'organizzazione che sta dietro ai processi di riciclo, quindi per noi design significa anche questo. Per me è chiarissimo. Quando si parla di innovazioni responsabili come quelle che ci ho appena mostrato spesso si parla anche della difficoltà di scalare queste innovazioni responsabili per poi portare al mercato, quindi come siete riusciti a portare al mercato in così breve tempo? Allora la scalabilità in realtà è un fattore che ha un impatto se vuoi sulla voce costo perché più un materiale viene prodotto più si raggiungono ovviamente economie di scala e quindi poi si può raggiungere un prezzo più basso e una maggior penetrazione. Abbiamo ovviamente raggiunto questi obiettivi dopo un anno di ricerca e sviluppo e dopo sei mesi prima di discussione di brainstorming, quindi è un processo lungo per portare un materiale su una nuova applicazione, c'è un processo lungo perché ovviamente dopo che si mette appunto il materiale ci sono le applicazioni industriali e quindi bisogna passare tutti gli step di validazione dei test fisico-meccanici e poi ovviamente nel caso in cui ci siano trattamenti estetici anche quelli. L'ultimo step da superare era il trattamento, la laccatura, abbiamo lavorato anche sull'accatura con delle resine, delle vernici bio-based solo al 50% perché con un livello superiore non garantivano gli stessi standard estetici. Come convincerebbe qualcuno che non vuole investire appunto in queste innovazioni perché in realtà magari non crede che siano allo stesso livello dei prodotti che si trovano già nel mercato, che magari non durino abbastanza, che per esempio non so siano più scomode delle scarpe, eccetera? Ormai non voglio dire che non abbiamo più scelta, cioè bisogna andare per forza in questa direzione ma è così perché da una parte abbiamo il consumatore che ci chiede di essere più sostenibili, dall'altra parte avremo una pressione delle regole, delle leggi ambientali. Non so se avete letto le leggi ambientali che adesso speriamo per approvare nello stato di New York. Si parla che tutti i brand con un fatturato superiore ai 100 milioni devono avere un full disclosure, un full control del 50% della loro supply chain. Si parla comunque di controllare, di avere perfettamente una fotografia del loro impatto ambientale, di raggiungere obiettivi di riduzione, altrimenti vengono tassati. Quindi, diciamo, regole, leggi ambientali saranno alla fine quello che ci metterà un po' tutti, anche i più incerti e i più dubbiosi, alla fine li costringerà a andare in questa direzione. Quindi oggi ovviamente chi lavora in anticipo si trova avvantaggiato. Bisogna già misurare, bisogna già implementare strategie di riduzione. Grazie a tutti.